Immagine di Enrico Cuffaro Quando si è alla guida di un veicolo Che cosa ha a che fare l'io con la guida di un veicolo? Commento L'io si può manifestare in tutta la sua rozzezza quando si è alla guida di un veicolo. Qui l'io trova la condizione favorevole per perpetrare vere e proprie violenze.